Come caricare punti su una card Il sistema garantisce tre diverse modalità per il carico punti. Se state utilizzando il post virtuale, strisciare la card nel lettore e inserire la quantità di punti che si desidera caricare sulla card. Premere OK e il gioco è fatto. Se utilizzate il post fisico, strisciare la card del cliente. Dal menu selezionare carico punti, inserire l'importo, premere OK e il gioco è fatto. Se utilizzate uno smartphone, ricercare il nominativo del cliente o digitare il numero card. Dal menu selezionare carico punti, inserire l'importo e il gioco è fatto.